Innanzitutto occorre dire che sono delle previsioni, sono delle proiezioni sulla base di un articolato sondaggio fatto presso le imprese private di industria e di servizi. Dal nostro punto di vista comunque arrivano delle conferme, delle conferme che purtroppo non sono positive perché la maggioranza schiacciante di questi contratti sono contratti a termine e riguardano sempre per la stragrande maggioranza dei profili professionali che non coinvolgono i laureati, cioè coinvolgono una percentuale di laureati sotto il 10%. Anche quelle che possiamo definire competenze specialistiche, alte professionalità, sono al di sotto della media percentuale nazionale. Questo che cosa significa? Significa certamente che c'è un inizio di ripartenza della produzione, del manifatturiero, dei servizi, però poi se andiamo a vedere i profili più richiesti ci rendiamo conto che sono profili che non richiedono una alta specializzazione o comunque un diploma di laurea. Significa che non c'è un movimento virtuoso verso l'alto delle competenze, delle professionalità e quindi dei salari. È comunque una inversione di tendenza o comunque un segnale positivo come va analizzato? Insomma rispetto anche ai dati Istat di qualche giorno fa che invece evidenziavano come si sia tornati ai livelli pre-crisi per l'occupazione, quindi i livelli del 2008, nel centro nord ma ci siano centinaia di migliaia di lavoratori in meno nel centro sud. Sì esattamente questo il quadro. C'è un segnale di inversione di tendenza che va valutato assolutamente e adeguatamente da un punto di vista positivo, ma le condizioni strutturali del mercato del lavoro non cambiano. Teniamo conto che in provincia di Salerno noi abbiamo un fenomeno di emigrazione giovanile altamente specializzata secondo alcune elaborazioni fatte su dati Istat che supera le 5.000 unità a gennaio 2017. Quindi non andiamo ad intaccare il vero problema, cioè quello di allargare il mercato del lavoro e cominciare ad adeguarci agli standard nazionali per quanto riguarda le professionalità, le competenze e soprattutto i laureati.